Pescara è una città che può essere pensata e raccontata anche in termini diversi e questo è l'obiettivo di Salotto Fai, in cosa consiste? Salotto Fai è un progetto culturale della Delegazione Fai di Pescara, Fondo Ambiente Italiano, che si sviluppa all'interno di un anno, nel 2013, partirà il prossimo sabato e si concluderà a novembre. Ci saranno otto incontri che vogliono inquadrare la città di Pescara e comunque anche la sua provincia, quindi l'ambito territoriale nostro, sotto vari punti di vista, da quello storico a quello ambientale. Un progetto complesso nel quale verranno più relatori, importanti relatori, che conoscitori del nostro territorio. Questo progetto si vuole sviluppare su due livelli, sul livello dei grandi, degli adulti e su quello dei bambini. Perché questo? Perché la cittadinanza è invitata a partecipare ai vari incontri, però gli incontri verranno teleripresi, verranno fatte delle registrazioni e queste registrazioni diventeranno poi un DVD o un Blu-ray in formato digitale che verrà regalato alle scuole. Quindi anche i bambini di tenere età fino alle superiori potranno vedere questo progetto culturale e capire quelli che sono i vari aspetti della città di Pescara. A costo zero il luogo ed ora del primo incontro? Allora, il primo incontro ci sarà appunto sabato 23 febbraio alle ore 18 presso la sala della figlia di Iorio. durerà un'ora, un'ora e mezza questo primo incontro e gli altri incontri a seguire uno per cadenza mensile.